Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Dora Narelle Come vedete siamo con un nuovo gioco e mi dispiace ieri non sono riuscito a registrare nulla di horror Ma ho avuto dei impegni importanti Ora, questo gioco non credo che lo conoscono molte persone L'ho trovato, non so nemmeno io come l'ho trovato, l'ho comprato Tempo 2-3 mesi fa, ho detto vabbè un giorno ci farò un gameplay E quel momento è arrivato ragazzi, oggi Ci ho giocato mezza volta, perché ho detto vabbè dovrò farci un gameplay per forza Bene ragazzi, come vedete già ho completato il primo livello, ma lo rifarò insieme a voi Ready for the chapter 1, the factory Questo gioco si chiama Mechanic Escape, credo, non mi ricordo Allora, vabbè ci spiega un po' i tasti Well ok Già mi ricordo qualcosa, comunque dobbiamo anche prendere queste cose Ok, sembra facile per adesso Perché è primo livello ovviamente I lag I colpi di lag Allora Sono un imbecille Comunque ragazzi, come vedete questa serie uscirà sempre di lunedì, probabilmente Semplicemente perché Visto che ci registrano anche Super Meat Boy, questo è simile a Super Meat Boy più o meno Dicevo, comunque Visto che è abbastanza simile a Project Zomboidob, vaffanculo Visto che è simile a Super Meat Boy più o meno Gioco comunque di platform Credo che metterò anche lunedì questo insieme a Super Meat Boy, probabilmente Poi non so, vedremo Ora è lunedì Quindi sto registrando adesso Quindi posso anche mettere l'episodio adesso E tanti gatto fanno Ah, bello Nuovo record Next Ok, ora siamo al prossimo livello Allora Mettiamoci d'accordo Di cosa fare oggi Come vedete questo gioco è abbastanza carino Non sembra orribile Anzi Sembra molto divertente Ok Sto evitando molte cose che dovevo prendere Però non fa niente Ok, sta avvenendo il mostro, mi sa E infatti, ecco Corriamo Dobbiamo stare attenti che questo ci rompe il culo Ok, se ne è andato a fanno il culo Oh, sì Andiamo a prendere anche la televisione qua dietro Che può servirci Non so a cosa, però vabbè Madonna, che combo Allora Poi non ho capito lo scopo di prendere questa televisione Non mi ricordo sinceramente perché Ha evitato tutte le televisioni che spiegavano Ma chi se ne frega Ok, passiamo al prossimo livello Bene ragazzi Per adesso Siamo Arrivati qui Ok Non riuscivo a saltare Non si sa perché Prima ho fatto quelle Quelle combo della madonna Poi boh Oh Ancora Eh sì baby Vedete ragazzi Ok Stiamo anche scoprendo nuove cose Credo Che ci saranno anche nel prossimo livello Spero che non venga di nuovo quel mostro Che inizia a correrci appresso Ok Ho preso la televisione E poi ce ne mancano altre tre Speriamo di trovarle Ora uscirà il boss Da come ho capito Corriamo 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 Quanto cazzo è veloce? Minchia No dai Tutto da capo no Ma quanto cazzo era veloce adesso? Era molto veloce Probabilmente Passando Di livello Saranno sempre di più Dai Come ho fatto prima? Ok Perfetto Quindi da come ho capito Il boss aumenterà la velocità Ogni Livello Credo Almeno quasi sembra Ora arriverà di nuovo E ci romperà il culo No che Minchia Iniziamo bene Allora Con calma Con calma Le cose con calma Si fanno Che poi Dovevo anche parlarvi Di una serie Che stavo facendo Di horror Se non vi sbaglio Non so Avete visto qualcuno Qualcuno di voi Il primo episodio Perché uno ne ho fatto Ovvero Project Zomboy Mi sono fermato Per un po' Perché il server Che noi Era Cioè che io era All'interno È stato chiuso Se non mi sbaglio Si è stato chiuso E in pratica Quello episodio che ho registrato Comunque No minchia Non c'è più niente Da registrare Comunque Devo ripartire da capo E quando partirò Con un nuovo episodio Di Project Zomboid Sarò con i miei amici Però non so Se Farò Cioè Il primo spawn In un altro server O cose varie Perché noi In questo momento Stiamo giocando In un altro server Europeo Comunque Ora ci morivo Porco giuro Comunque È un server europeo E ci sono Sto giocando con i miei amici E mi sto divertendo un sacco C'erano state molte Occasioni Che probabilmente Potevo anche registrare Però Non ci ho pensato E Sono andate a puttane Oh mio dio Aspettate ragazzi Aspettate ragazzi Non è un momento Questo mi ammazza Dobbiamo salire Certo C'è l'altra televisione Sono due Scherzi Ah no Pensavo che succedesse qualcosa Ok abbiamo raccolto Solo tre televisioni Questa volta Mi spiace Non ho capito Sinceramente Credo che sia come Super Meat Boy Comunque dobbiamo arrivare Alla fine del livello Anche se non prendiamo A Qui invece in teoria Dobbiamo prendere le televisioni Non so a cosa cazzo Non servono Però va bene Comunque Dai comunque Appena avrò tempo Per registrare Maffanculo Project Zomboid Vi farò vedere Un sacco di cose Ovviamente Siamo passati Al prossimo livello Comunque ci farò Una bella serie Per Project Zomboid Visto che Un bel gioco E mi piace un sacco Soprattutto i giochi Di sopravvivenza Qualsiasi Fosse tipo Project Zomboid Hope to Survive Dopo Orest Giochi simili Mi piacciono un sacco E credo che ci farò Molte serie O almeno Ci spero di fare Un sacco di serie Allora Cerchiamo Da come ho capito Dobbiamo scappare Sempre da quel monstro Oh mio dio Questo mi ammazza Questo mi ammazza Adesso Mi ammazza Adesso Ok Vediamo di fare La stessa cosa Di prima di saltare Ok Meglio se non ci muoviamo Meglio se non ci muoviamo Meglio se non ci muoviamo Ok perfetto Ok abbiamo raccolto L'altra televisione E poi Sto raccogliendo All'incirca 3 televisioni Ha partito Se non mi sbaglio Ora 4 Oh mio dio No Ho fatto una cagata Porco Ho fatto io una cagata Sorry ragazzi Non so nemmeno A che livello Siamo arrivati Credo che finisca Questo livello E fermiamo il gameplay Probabilmente Mi spiace Che forse Sarà abbastanza corto Abbiamo sbloccato Un archivamento Divertente Oh che è scomparso Il mostriciattolo Tra virgolette Mostriciattolo Non so Comunque Dovrò vedere Se fare per Project Zomboid Una serie Nuova Con Un nuovo server Comunque iniziare Tutto da cavolo Non so Poi vedremo Io potrei anche Continuarla direttamente In questo server Anche se abbiamo Già molte cose Non credo però Dovrebbe dispiacere Forse a me si Un po' Non so voi Però sembra Credo che sia giusto Anche Fare Una serie Dove Iniziamo Proprio all'inizio Più che altro All'inizio Sarà molto difficile Perché Dobbiamo trovarci Dobbiamo Sopravvivere Con quel poco Che abbiamo Visto che Non è facile Sopravvivere All'inizio In questi server Ci sono tantissimi zombie E poi Le risorse Comunque Già scarseggiano Però Vabbè Si possono trovare Facilmente le cose Basta Conoscere a memoria La mappa Tipo Cosa che stiamo Imparando noi Perché Non riesce A saltare Gesù Cristo Ok Fino adesso Siamo arrivati qui Porco giuta Porco giuta Sta partita di merda Allora Cerchiamo di fare Le cose veloci Ok Ok Fino adesso Io odio Questo gioco A volte Cioè Lo sto odiando Super Meat Lo odio Questo lo odierò Già da adesso Questo ci sta seguendo Ci vuole ammazzare Ok Allora Cerchiamo di fare Qui Le cose veloci Cioè Non qui Non dovrei Scansare queste cose Però vabbè Oh mio dio Ci morì Ci crepava come un idiota Oh mio dio Ovviamente Siamo riusciti A completare Anche questo livello Dai ragazzi Possiamo fermarci qui Spero che questo Videogioco vi piaccia Anche al gameplay Ci vediamo Ci vediamo Nel prossimo episodio Non so quando Di questo coso Spero lunedì Se no mi sale Il nazismo A causa di questo gioco Perché potrebbe succedere Bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un mi piace O un commento Iscrivetevi Alla pagina facebook Che troverete In descrizione Ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti